Siamo qui a Casantolino in questo pool party, questa festa in piscina. Stiamo facendo un barbecue con tanti amici andrettesi d'America. Come sempre un'accoglienza, un calore che ci fa sentire a casa. Veramente Andretta ha un grande cuore e questa è una cosa bella che arricchisce la nostra comunità. Con noi ci sono tanti amici, Cettonino, il nostro sindaco. Ci sono tante persone che sono venute qui apposta per noi per darci un bel beluto. E questa è una cosa che non dimenticheremo mai perché la comunità di Andretta, anche se sparsa in tutto il mondo, è una grande famiglia. Una grande famiglia che sa credere e sa trasmettere i valori dell'amicizia e dell'amore. Siamo a casa di Gaetano questa sera che ci ha voluto onorare. Grazie al parroco e ai ragazzi che sono qui per il gemellaggio, per questo barbecue e per passare una serata insieme agli amici andrettesi negli Stati Uniti. E' veramente un onore e un piacere stare qui con loro. Veramente abbiamo trovato una famiglia, abbiamo lasciato la nostra famiglia, ma qui negli Stati Uniti c'è un'altra famiglia che è viva e che è attaccata alle origini, al proprio paese, alla propria storia. E' veramente una grande emozione e momenti come questi io penso che siano irripetibili. Sono delle esperienze che lasciano il segno, sono delle esperienze di vita che ti segnano, ti segnano profondamente perché tocchi con mano quanto questi amici che hanno dovuto lasciare il proprio paese, la propria terra, siano legate alle origini, alle loro famiglie che sono al di là dell'oceano. E questa sera i tanti amici che sono arrivati e gli altri che stanno arrivando, è proprio una testimonianza di questo loro attaccamento. Un grazie a Gaetano, alla famiglia Antolino e tutti gli amici che sono qui questa sera e che ci hanno onorato con questo barbecue. Per lavorare nelle scuole, quei giorni... No, capito? Quando l'hai tradotto in inglese ho capito. Ma ti stai, piantino piedi. Io mettermelo nel cervello. No, 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 no. Salute, allora siamo in occasione alla casa di Giovanni e di Gaetano qua, facciamo questo barbecue come si diceva l'America. l'occasione del nostro sindaco, di Andretta, il nostro parroco. Ma comunque aiutatemi a parlare, parlate pure voi, invece ho parlato solo io, non mangiate solamente. Dunque. Dunque. Diceva prima che sto al stomaco. Dunque. Il nostro padre Don Giuseppe. Non ci ha fatto il piacere di vedere tutta l'Andrettesi e tutti questi giorni. Ma noi ci vediamo sempre, non ce l'ha affatto il piacere. Non ci ha fatto 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 il piacere. Sono stati loro che l'hanno venuto a bere a me. Non ci ha fatto il piacere. Un caloroso abbraccio dall'America, precisamente nella piscina di Gaetano Antolino. Un caloroso abbraccio agli Andrettesi, da Giovanni Cianciulli, detto Racerno. E Gerardo Di Guglielmo, detto Arpone. Hello! Con questo noi stiamo tutti bene così, nell'acqua. Ah, c'è la santa, è come si sta bene. Piano, Giovanni, vieni su, vieni su. Ah, c'è la santa, è come si sta bene. Ah, c'è la santa, è come si sta bene. Giovanni, buonasera, mi hai preso di sorpresa, mi hai colto di sorpresa. Siamo contentissimi che questa serata, uniti con il sindaco di Andrettesi, il nostro parroco, Don Giuseppe, non mi hanno sbagliato il suo nome. Ah, Giuseppe, io parlo di voi, ho tutto appiccino la sigaretta. E qui ti manda l'ingronato. Ah, stai, stai. Ah, stai, stai, stai. Stai, 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 stai. Siamo nella giacuzzi. Un po' di relax dopo un barbecue in piscina. Per concludere la giornata è la cosa ideale, ci si rilassa, si sta bene. Buonasera, buonasera, mamma. Guarda due minuti. Senta, guarda, ma le domande. Vuoi fare? Sera, subito. No, stai, stai, stai. No, stai, stai, stai. No, stai, stai, stai. come ho capito Don Giuseppe è una bravissima persona quando dormi è una bravissima persona come stai da questa parte? buoni, buoni, buoni buoni, 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 buoni buoni, 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 buoni buoni, buoni, buoni no, no, troppo senno è buoni l'anno scorso ora, forse c'era pure Tonino ricordi? c'era Scalino c'era Scalino ah è cucendo, Tonino poi c'è tutto poi prendiamo la pezzatura di blam Tonino ah aspetta, aspetta qua c'è tutto col piede al piede cuore ah e lui lo faccio bene da fare questo ah, lo faccio bene ma questo veramente lo faccio bene faccio bene alla schiena alla circolazione stiamo passando una bellissima serata e ringraziamo Gaetano che ci ha dato questa possibilità di condividere con loro questa serata e un un augurio a tutti God lucky thank you grazie grazie vuoi parlare inglese? stai parlando inglese? voglio è un inglese ha detto pure che siamo moci guarda la Jessica parlo non l'aveva mi ha chiamato moci ci vuoi? a Romagna che lo facciamo eh dottori facciamoci un piede qua c'è la Sambu ma la Boppita è la tua? no è rimasta Giovanni guarda 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 la nuotata digestiva un po' di San Marziano con una sigaretta per favore